Scelta Pura Gas è l'offerta di Estra che nasce dall'accordo triennale di Estraenergie con a zero CO2 per compensare tramite l'acquisto di crediti di CO2 le emissioni di anidride carbonica prodotte dai consumi del metano. Estra, con l'adesione a mosaico verde, pianterà nei prossimi tre anni una foresta urbana di quasi 9.000 alberi, i primi nel 2021 ad Ancona e nei comuni a Retino di Civitella Valdichiana e Fiorentino di Calenzano. Ammontano a 15 milioni di euro i contratti di Estra Clima per lavori di riqualificazione energetica nel 2021 legati al super bonus. I lavori, già programmati tra Toscana e Marche, sono circa 30 con 11 cantieri aperti. Estra e Consiag, socio di Estra, acquisiscono il 10% di Bisenzio Ambiente, società che gestisce a Campi Bisenzi o Firenze un impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi di 180.000 tonnellate all'anno.